bene allora abbiamo visto un testo un testo che è abbastanza semplice dal punto di vista dal punto di vista così della morfologia della sintassi anche molto molto semplice un testo paratattico in cui abbiamo la compresenza di elementi che si completano fra di loro la rappresentazione a dimostrazione di come insomma sia possibile anche cominciare già a leggere qualche cosa del greco ed entrare insomma nella lingua certo che ovviamente sarà imprescindibile sarà imprescindibile appunto riuscire a raggiungere l'obiettivo numero uno che è quello di imparare l'alfabeto alfa le lettere dell'alfabeto greco sono 24 io lo dico appunto perché parto dal presupposto che ci sia anche chi assolutamente non conosce sì, utenti dal Brasile e dall'Argentina e c'erano anche dalla Repubblica Ceca direi sì, un applauso virtuale per Francesco e Marcello Javier le lettere dell'alfabeto greco sono 24 7 sono le vocali quindi due vocali in più delle nostre poi abbiamo 14 consonanti e 3 consonanti doppie insomma le consonanti sono 17 ma sono 3 sono consonanti doppie, cioè che derivano dalla compresenza di due suoni quindi le vocali sono alfa, suono a epsilon, suono e, breve eta, suono e, lungo iota, suono i omicron, suono o y, suono della u francese omega, suono della o lunga quindi omicron, o breve vuol dire o micron vuol dire infatti o piccola omega, o mega vorrebbe dire o grande e vocale lunga queste sono le vocali ecco nella loro grafia minuscola poi abbiamo la grafia maiuscola alfa, alfa, beta, gamma, delta epsilon, zeta, eta, zeta, iota k, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, ro, sigma, tau, y, fi, chi, psi, omega Claudia chiede è meglio omega oppure omega? si sentono entrambe le pronunce credo che siano entrambe legittime anche fra i colleghi c'è che pronuncia omega c'è che pronuncia omega io preferisco omega perché pronuncerei la parola greca la pronuncerei alla latina secondo quella che è una prassi che è insomma più che una prassi è una convenzione convenzionalmente i termini greci le parole greche quando passano in italiano si leggono con l'accento latino questo vale per i nomi propri non diciamo pericle perché in latino è pericles ma in greco sarebbe pericles serve pericle diciamo socrates perché in greco e perché in latino è socrates in greco sarebbe socrates e così via poiché omega insomma adesso c'è il problema che leggendo con l'accento latino si usa la pronuncia latina la pronuncia latina bisogna guardare la penultima esatto edipo no edipo e non edipo in greco è in greco è oidipus quindi edipo è alla greca edipus invece sarebbe la latina si è affermata adesso la pronuncia edipo anche per effetto della psicanalisi il complesso di edipo quindi ad un certo punto poi l'uso fa la legge fa la regola quindi saranno e quindi insomma adesso normalmente si pronuncia edipo però la lettura corretta edipo e jasone è jasone assolutamente jasone è inascoltabile è inascoltabile jasone jasone di ciò che è scritto sulla presentazione avremo modo di consultarla ancora così con l'audio sì sì il filmato sarà video audio senza interruzioni senza interferenze direi che dovrebbe essere si dovrebbe sentire in maniera perfetta quindi tutto sarà tutto sarà consultabile mi ci vorrà un giorno o due però per fare l'editing diciamo perché ci sono alcune cose che andranno andranno tolti insomma per renderlo un pochino più per renderlo un pochino più più agile più fruibile però sì sarà possibile sarà possibile allora c'era che mi chiedeva di indicare le vocali col mouse allora le indichiamo subito io direi di tornare alle lettere minuscole ecco e vi indico le vocali con anche la pronuncia questa è alfa e si pronuncia a questa è alfa poi andiamo avanti abbiamo la epsilon si pronuncia e ed è una e breve andiamo più avanti e abbiamo eta anche eta è una vocale di suono e ed è e lungo adesso per stabilire la pronuncia corretta di epsilon ed eta quale sia come vada pronunciato un e l'ata c'è chi ritiene che la epsilon sia una e aperta eta una e chiusa quindi epsilon sarà sia pronunciato e eta invece vada pronunciato e c'è chi invece ritiene il contrario che epsilon sia una e chiusa e e la eta una e aperta insomma di fatto non abbiamo non abbiamo elementi per decidere sulla pronuncia esatta così come non abbiamo elementi per decidere sulla sull'apertura o meno di omicron e di omega no? le due vocali di suono o insomma comunque direi che non è importante non è importante questo aspetto la epsilon la pronunciamo e sappiamo che è una e di quantità breve questo sarà importante più avanti insomma quando avremo modo di proseguire eta ancora una vocale di suono e però è un suono lungo quindi sicuramente e sicuramente nella pronuncia facevano sentire la quantità della e io non so se facessero sentire l'apertura o meno della vocale la quantità sì cioè che la che è è un suono lungo lo facevano sentire e quando avremo modo di parlare di metrica quando parleremo di poesia poesia omerica penso che accenneremo se arriveremo mai a farlo ci mancherebbe altro però avremo modo di introdurre anche questo discorso e vedremo che ha molta importanza la quantità della vocale cioè il fatto che sia lungo o breve ha importanza adesso però allo stadio attuale del nostro studio non ci interessa questo aspetto poi abbiamo iota vocali di suono i poi andiamo un'altra serie di consonanti abbiamo omicron suono o breve poi andiamo ancora avanti abbiamo la y che è una vocale che si pronuncia come la u francese la u la u francese attenzione u non u perché per pronunciare u dobbiamo avere il dittongo della successione di omicron più y quello si si pronuncia u ma la y da sola si pronuncia u poi abbiamo l'ultima vocale che è la omega quindi queste sono le sette vocali adesso passiamo in rassegna direi le consonanti le consonanti e vi indico anche la pronuncia delle consonanti questa è la seconda è beta le prime credo che le conosciamo tutti alfa, beta, gamma, delta sono note anche per matematica per altre insomma sono come il pi greco insomma è noto comunque beta si pronuncia b e francese ci occuperemo solo degli aspetti linguistici o anche di quelli letterari ci occuperemo soprattutto degli aspetti letterari nel senso che io credo che se si studia una lingua la lingua è lo strumento per poter leggere dei testi che siano veramente significativi come quello che vi ho proposto non a caso non a caso ho iniziato non con l'alfabeto ma leggendo un testo di safo anche se non abbiamo ancora la competenza sufficiente per leggere un testo di safo per poterlo apprezzare in fondo non abbiamo ancora gli strumenti le competenze linguistiche sufficienti però ve l'ho presentato subito proprio per indicare che il taglio che daremo è questo mi piacerebbe sempre avere un occhio particolare per quei testi che è vero senza la lingua non si capisce la letteratura però 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 non ci si può ridurre solo alla lingua non si può ridurre quindi secondo me il lavoro che dovremmo fare è un lavoro di interazione di passaggio da una all'altra ovviamente adesso concentrandoci di più sulla lingua perché l'aspetto è l'aspetto che ha più bisogno di essere tenuti in considerazione insomma c'è proprio da imparare sì 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 no ma è giusto è giusto chiedere chiarimenti è giusto chiedere chiarimenti certo che adesso adesso il la precedenza sarà data alla lingua però è un discorso che volevo volevo affrontare un po' più tardi quando avrei parlato del del metodo che ti devo seguire ma già